Giovedì 19 dicembre all'interno della sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni di Palermo si è tenuto il convegno dal titolo la consulta giovanile regionale, i giovani al centro dell'agenda politica. Nel corso dell'incontro che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di giovani siciliani sono state illustrate le finalità della legge regionale numero 568-560 approvata lo scorso 29 ottobre che ha istituito la consulta giovanile regionale siciliana. Sono intervenuti al convegno alcuni dei capigruppo dei partiti rappresentati in assemblea regionale nonché esponenti del governo regionale i quali hanno sottolineato l'importanza di questo organo che permetterà di coordinare e rafforzare il lavoro delle consulte comunali già costituite di quelle che si andranno a costituire nei prossimi mesi. Questa consulta ha commentato la Mastratino Antonino Sanzarello rappresenta il coronamento del lavoro svolto durante questi mesi e testimonia la necessità di cambiamento sentita da noi giovani siciliani stanchi di una politica lontana dai nostri bisogni. Questo strumento permetterà infatti di esprimere pareri e formulare proposte anche legislative collaborando quindi con le istituzioni regionali nell'ambito delle politiche di interesse giovanile accogliendo istanze e sollecitazioni provenienti dai vari territori dell'isola.